L'arte e il patrimonio culturale della città di Molfetta si uniscono alla drammaturgia. Nasce da qui il progetto Deep Blue Radio, all'incanto, presentato questa mattina nella sede municipale di La Mascotella. Si tratterà di una vera e propria escursione teatrale che si svolgerà a Cala San Giacomo, sabato e domenica 10 ottobre, rispettivamente le 16.30 alle 11.30. L'insenatura, a due chilometri dalla città vecchia, è indicata storicamente come porto attivo dal XII alla metà del XVIII secolo, perché la Cala offriva facile riparo ai naviganti. Quindi non solo saranno descritte le caratteristiche faunistiche e naturalistiche, ma anche della storia del mercato ittico della città di Molfetta, che è stato oggetto di ricerca di Tommaso Danisi e Luigi Delia della compagnia Licia la Nera. Per me, che non sono di Molfetta, quindi abbiamo cercato di arrivare con uno sguardo esterno, e quello che succede all'asta era, come dire, ci siamo trovati di fronte a un rito che, guarda caso, si ripete simile in tante aste del pesce mondiali. E quindi abbiamo cercato di capire qual era questo rito, qual erano gli ingredienti, come dire, gli elementi che potevano essere drammaturgici e potevano essere anche resi universali, perché l'obiettivo non è raccontare l'asta del pesce di Molfetta, ma è raccontare un sentimento che attraversa forse anche l'asta del pesce di Molfetta. E quindi diciamo che l'escursione narrata unisce tante cose, perché è la narrazione, l'arte, la poesia, la letteratura, che si mescola con un progetto di riqualificazione ambientale, urbanistico. Dopo anni di abbandono, dunque, la fascia costiera, compresa tra Scala San Giacomo e Torre Calderina, è oggi oggetto di un progetto di riqualificazione integrata che sarà attuato nel giro di un anno e mezzo e che punta al recupero e alla valorizzazione di quest'area. Abbiamo superato una lunga fase di concertazione con gli enti, i nulla osta sono ormai tutti incardinati negli atti e siamo pronti per l'appalto. Finalmente quel foglio bianco, che io ho sempre sostenuto essere la costa di Ponente, interessante, che va verso Biceglie, sarà la nuova area della città in cui si potrà usufruire sia della campagna, così rispettando i valori naturalistici, che del mare. Un mare che è nuovamente addirittura balneabile dopo i lavori del depuratore che li hanno portato i livelli alla balneazione. Ristruttureremo Torre Calderina, faremo una pista ciclabile, elimineremo il problema della disgregazione della costa che è lì e rispettosi dello scenario naturale che è Torre Calderina lo collegheremo alla terra e quindi anche il mare, quella terra potrà essere utilizzata dai cittadini. Mi auguro nel rispetto appunto di questa scelta ambientale naturalistica che stiamo facendo.